Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi ho preparato queste due varianti con ciascuna tre carte dei tarocchi e poi andremo ad approfondire con altre carte eventualmente di avere ulteriori informazioni. La domanda di oggi è mi posso fidare di una determinata persona? Quindi cercate di focalizzare la persona visualizzandola, quindi il volto, anche magari la voce se riuscite e poi chiudete gli occhi e focalizzatevi sui testimoni. Variante numero uno vi ho preparato una spirale di acciaio e variante numero due vi ho preparato una spirale di legno. Ok, vi do un attimino di tempo per decidere e poi se avete bisogno di più tempo potete mettere in pausa. Vi ricordo che questo video è valido nel momento in cui lo aprite e non soltanto nel momento in cui viene caricato. Ok, se avete bisogno di più tempo mettete in pausa, io vado subito con la prima variante. Eccoci qui, variante della spirale d'acciaio. Vediamo un po' che cosa ti dicono i tarocchi. Due di bastoni, fante di spade e il sei di coppia al contrario. Allora, andiamo a chiarire, prima di darti un risponso, ogni carta con gli altri tarocchi. Allora, perché abbiamo il due di bastoni? Perché abbiamo il due di bastoni? Abbiamo parecchie carte. Due, no, cinque di spade. Il sette di denario al contrario, il mago al contrario e il nove di bastoni al contrario. Andiamo a prendere anche queste due. La famiglia come raffigurazione, il re di coppia al contrario e il re di pentacoli. Sempre al contrario. Tantissime carte sono al contrario qui. Quindi andiamo a vedere il risultato. Allora, come due di bastoni, qui abbiamo un passaggio successivo che tu stai facendo riguardo a questa persona. Questa persona ti sta insegnando con il suo comportamento a rispettarti. Vedo che risuona per tanti di voi questa cosa. Vedo che è come se nei conflitti che tu hai con questa persona dovessi imparare a preservare quella che è la tua integrità. Abbiamo anche questa carta qua che è un sette di denario al contrario. Quindi significa che in un certo senso, con il mago al contrario, è come se avessi tu di tuo una, come dire, un'incapacità quasi, non incapacità, ma una resistenza, ecco, più che incapacità, a crearti da solo, da sola la tua fortuna. E quindi è come se ti fossi un po' appellato all'aiuto di questa persona. Per tanti qua si tratta proprio di lavoro, per altri si tratta di famiglia, quindi o di amicizia. Vedete voi? Alcuni di voi hanno proprio pensato a una storia d'amore. In questo caso mi sento di dirvi che forse non è la variante per voi, ma andiamo a vedere anche con le altre carte perché magari c'è qualcosa che parla di amore. Qui per ora mi parlano di qualcosa di concreto, quindi anche se si tratta di amore potrebbe essere semplicemente riguardante a quello che avete insieme, in comune, una casa, delle proprietà, dei beni che, diciamo, vi dividete o comunque avete in comunione, ok? In questo senso abbiamo proprio questo richiamo, vedo che da parte di questa persona non c'è una grande empatia, comunque non c'è, anche se magari ve lo mostra, perché qua vedo che voi siete nell'energia di sentirvi quasi a casa con questa persona. Però in realtà quello che vedo è che è come se ci fosse una sorta di, come dire, non c'è realmente una grande empatia da parte di questa persona nei vostri confronti, ecco, in questo momento perlomeno. Andiamo a vedere perché abbiamo il fante di spade. Perché abbiamo il fante di spade. Perché abbiamo il fante di spade. Ok, abbiamo il diavolo al contrario, il cavaliere di bastoni al contrario e il carro. Dunque, allora, secondo me siete stati portati a avere dei pensieri ossessivi riguardo questa situazione, riguardo questa persona, ed è come se adesso vi fosse chiesto di sviluppare quella che è la vostra capacità a rimandare indietro il colpo. Ovviamente intendo dal punto di vista di subire magari delle ingiustizie. Potrebbe essere che alcuni di voi abbiano subito delle ingiustizie, che alcuni di voi non si sentano capiti, rispettati in certi punti di vista. Quindi questa persona potrebbe avere dei lati positivi, ma poi anche dei lati negativi. E questi lati negativi riguardano proprio il non rispettarvi in determinate situazioni, in determinati contesti, con determinati comportamenti. Quindi questo vi ha creato dell'ansia, dei pensieri ossessivi, dell'irrequietezza, no? Ansia. E qua siete chiamati proprio a eliminare questa tossicità da voi, da dentro di voi, nel senso che se è una caratteristica dell'altra persona, che se la tenga, no? Mi vengo a dire. L'importante è che questa cosa non vada ad intaccare voi. Quindi abbiamo proprio un movimento, cioè voi avete imparato, o state imparando, o imparerete a utilizzare la vostra parte difensiva e a parare il colpo. Abbiamo il carro, quindi non vi preoccupate perché questa cosa vi porterà a cambiare, no? Voi stessi, ma anche le vostre circostanze esterne. Abbiamo una persona che si muove dalla situazione nella quale è stata finora. Potrebbe trattarsi assolutamente di voi che vi siete un po' stufati di, diciamo, ricevere questo trattamento, in un certo senso. Ovviamente è tutto funzionale perché questo vi dà una prova da superare e quindi da imparare a, come dire, utilizzare certe skills, no? Quindi imparare a utilizzare certi vostri capacità protettive, difensive. È una prova che l'universo vi ha messo davanti. Andiamo a vedere perché abbiamo il 6 di coppe. Perché abbiamo il 6 di coppe al contrario? Allora, 5 di denaro, scusatemi, di coppe al contrario con le stelle sempre al contrario. Perché abbiamo il 6 di coppe al contrario? Paggio al contrario. Sono uscite quasi tutte le carte al contrario, tranne un paio. Il carro è l'altra carta, quindi vi dico come fondo mazzo, tra l'altro, la papessa. Allora, qui c'è molta resistenza in questa stesa, c'è molta resistenza perché probabilmente siete in una situazione nella quale c'è qualcosa che va sbloccato o che state sbloccando o che state lavorando duramente per sbloccare. Non abbiate paura se è così, è semplicemente un momento, una fase di questa situazione. Quindi vi dico, probabilmente questa persona è come se non facesse introspezione dentro di sé e poi avesse questi comportamenti perché non è capace, diciamo, di fare introspezione e di vedere quando alcuni suoi comportamenti diventano magari tossici per l'altro, creano dei danni, creano dei problemi. Quindi voi invece vedo che siete in questa energia, quindi vi chiedete se magari i vostri atteggiamenti possono ferire. L'altra persona, come voi, nel rapporto con voi sta imparando delle lezioni, anche questa persona. Quindi comunque sappiate che ogni rapporto, ogni situazione dà dei riscontri, dei feedback a entrambe le persone se è un rapporto in cui sono coinvolte due persone o più, insomma, è sempre un aiuto a evolvere, un insegnamento. Quindi anche questa persona sta imparando o imparerà, se vuole ovviamente, perché poi dipende da questa persona, ad avere più a cuore anche un po' l'esigenza degli altri. Io qui vedo purtroppo che, come già vi dicevo prima, è come se la persona non avesse tanta empatia e come se quello che voi date non venga riconosciuto. Abbiamo le stelle al contrario, questo fante di pentacolo al contrario. Vi posso dire che forse non è così tanto affidabile. Se avete già ribadito una volta il fatto che volete essere rispettati, può essere che questa persona abbia bisogno che glielo ripetiate più volte. perché ci prova un po', nel senso che ci prova magari a chiedervi di, non lo so, vi faccio un esempio, se si tratta di lavoro e avete detto che voi avete determinati limiti, non lo so, per dire, non volete essere, vi faccio un esempio a caso, che non credo sarà il vostro, però un esempio a caso. Non lo so, avete un lavoro che va a turni e non volete essere chiamati due ore prima di andare a lavorare, ma chiedete di essere chiamati almeno 24 ore prima, questa persona vi dice se sì e poi comunque vi chiama poco prima. Per alcuni magari può anche risuonare, però non per tutti. È un esempio soltanto per farvi capire che tipo di cose intendo, di cosa sto parlando. Quindi qua non stiamo parlando di grandi, come dire, inganni, o comunque magari se si tratta di lavoro non veniate pagati, no, assolutamente no. Però è una sorta di non rispettare la vostra persona sotto punti di vista che possono mettere a disagio. Magari è una persona che non si fa tanti problemi a fare queste cose con se stessa, quindi ritornando all'esempio di prima, magari, non lo so, non ha problemi ad andare a lavorare avvisato o avvisata un'ora prima, e quindi magari non riesce a comprendere perché per voi sia un problema. Però magari voi avete una vita diversa, quindi voi un problema ce l'avete, ok? Questo, ripeto, è solo un esempio, però per farvi capire che questa persona non è del tutto tossica, o comunque non è una persona da cui dovete guardarvi bene, da fidarvi. Non stiamo parlando di una persona di questo genere, assolutamente. Stiamo parlando di una persona che comunque non brilla per empatia, diciamo, però non ha neanche cattive intenzioni. Semplicemente ha dei lati negativi, ha dei lati che non prendono in considerazione l'empatia degli altri, non empatizzano con l'altro in questo senso, non ha empatia, e quindi magari a volte non riesce a capire come un'altra persona possa prendere diversamente le cose da lui o da lei. E quindi è come se non capisse l'altro in questo senso, ok? Spero di essermi spiegata. Abbiamo anche una persona che non vedo tanto sereno, onestamente, con questa carta qui. Quindi forse non è sereno, non è serena perché... Proprio per questo, perché come non è capace di capire in voi che voi avete magari dei limiti, no? Cioè, dei paletti, anche questa persona non li mette per se stessa nella sua vita. E quindi questo porta questa persona inesorabilmente ad essere infelice, ad essere magari frustrata perché fa delle cose che non vorrebbe fare. Ritornando sempre all'esempio di prima del lavoro, di avere un preavviso prima, no? Ecco, il giorno prima. Magari questa persona ha una vita disorganizzata perché è abituato, abituata a scattare quando viene chiamato per lavorare. Oppure se si tratta di amore, per esempio. Un partner che non tiene i propri spazi per sé. Quindi quando voi reclamate i vostri spazi e dite magari, guarda, quella sera non ci sono perché voglio andare con le amiche o anche senza dare giustificazioni, questa persona la prende sul personale. È come dire, ma perché io voglio sempre stare con te? E invece non è sano quello che fa questa persona. Non è sano, ma non è in grado di rendersene conto. E quindi anche chi fa, soprattutto chi fa qualcosa di sano, viene visto come qualcosa di egoista. Ma non è così. È questa persona che non fa, come dire, che è troppo disponibile. Ok? Quindi non dovete sentirvi in colpa se questa persona a volte vi fa delle richieste che non volete prendere in considerazione, non volete accettare. È più che giusto. Se voi sentite che queste richieste non rispettano il vostro spazio, è giusto che voi rispettiate il vostro spazio e che mettete delle barriere, dei paletti. Questo è quello che mi emerge. Andiamo a vedere con gli oracoli se abbiamo ulteriori informazioni. Ok. Lascia andare. Ascolta la tua intuizione. Abbiamo una carta che vi dice di lasciare andare l'attaccamento, soprattutto perché credo che in realtà per tanti di voi, se si tratta di lavoro, di amore, di amicizia, insomma, qualsiasi rapporto sia, credo che per tanti di voi ci sia un po'... abbiate sviluppato inconsciamente, anche se magari non vi rendete conto, una sorta di attaccamento a questa situazione. Cioè, se magari siete dati di lavoro, avete paura un po', diciamo, a dire di no, no? Se magari vengono poste delle richieste un po' esagerate, è come se non voleste dire di no perché non volete che questa persona magari vi licenzi oppure non vi chiami più, ok, questo tipo di cose. O se si tratta del partner, avete paura che il partner si allontani. Allora, vi dico, non fate questi ragionamenti, cioè cercate di vedere sotto un altro punto di vista perché questi ragionamenti sono dei ragionamenti che vi portano nel vortice di tossicità che purtroppo questa persona ha in certi momenti, quindi voi dovete rimanerne fuori, proteggervi da quelli che sono questi atteggiamenti. Se questa persona per la sua vita vuole continuare ad averli, che li abbia, ma questo non deve intaccare voi, voi dovete proteggere la vostra energia. Quindi cercate di lasciare andare l'attaccamento e ditevi questo, se andrà che devo rimanere nella vita di questa persona, bene. Se questa persona vorrà escludermi dalla sua vita perché non ho, diciamo, perché ho rispettato i miei confini, perché non mi sono lasciato invadere dalla sua energia, che gli devo dire? Va bene, che vada, la lascio andare. Quindi lasciate andare l'attaccamento, è molto importante questa cosa, eh. E ascoltate la vostra intuizione, importantissimo. Già magari lo state facendo, però sapete questo, quando venite chiamati a fare qualcosa che non vi fa sentire bene e avete una vocina dentro che vi dice attenzione allarme rosso, non è il caso di fare questo, non farlo, ascoltatela questa vocina perché vi sta dicendo di rispettarvi, vi sta dicendo di dire un sì a voi stessi e quindi un no all'altro. E a volte è necessario, ma è proprio necessario e non ci sono alternative per star bene. Quindi non è che tutto quello che arriva dovete prenderlo. Magari ci sono delle cose che potete anche lasciare sullo sfondo, dire di no. Dovete preservare la vostra energia, questo deve diventare la vostra priorità. Ok? Io spero di essere stata utile con questa lettura. Per adesso vi saluto, vi abbraccio e se vi va fatemi sapere nei commenti che cosa state vivendo, come mai magari state male su determinati punti di vista. Io vi aspetto domani alle 20 con un nuovo video e vi saluto, vi abbraccio. Passo alla variante numero 2. Eccoci qui con la variante numero 2. Andiamo a vedere che cosa si ce l'ha dietro alle tue carte. 10 di denari al contrario. Poi abbiamo il cavaliere di bastonia, sempre al contrario, e il lotto di denari. Andiamo a chiarire con i tarocchi. 10 di denari, perché abbiamo il 10 di denari? Perché abbiamo il 10 di denari? Allora, abbiamo la torre con il re di bastoni. Poi, perché abbiamo il cavaliere di bastoni al contrario? Perché abbiamo il cavaliere di bastoni al contrario? Regina di denari al contrario, perché abbiamo il cavaliere di denari al contrario? Perché abbiamo il cavaliere di denari al contrario? Allora, abbiamo questa carta qua, che è questa illustrazione molto bella. Poi abbiamo il 4 di denari al contrario, no, portatemi dritto. E poi abbiamo il 7 di spade al contrario, perché abbiamo... l'8 di denari al contrario. 2 di spade e paggio di denari al contrario. Allora, sul fondo del mazzo abbiamo l'imperatrice al contrario. Dunque, qui vedo una situazione di dipendenza economica che sta avvolgendo al termine. Quindi, sono molto contenta di dirvi questo. Se avete pensato a una persona in particolare, penso che fosse la persona che vi ha aiutati, o comunque da cui siete stati dipendenti economicamente finora. questo è un po' il resoconto. C'è una torre qui, e abbiamo questo re di bastoni al contrario. Questa persona ha avuto una sorta di potere su di voi, in un certo senso, perché naturalmente, dandovi determinati aiuti, magari si sentiva quasi in diritto di reclamare qualche cosa. Adesso questa torre farà cadere questa sua possibilità, diciamo, no? Quindi, molto bene questo. Allora, qui abbiamo... Se si tratta di un partner, quindi per alcuni di voi mi risuona questo. Vedo che avete probabilmente chiuso una relazione, o state chiudendo una relazione d'amore. Potrebbe essere che questa persona vi dia... Come dire? Allora, potrebbe essere che questa persona vi dia una sorta di aiuto ancora. Nel senso, se state chiudendo la relazione, magari state divorziando, vi faccio un esempio. Questa persona potrebbe comunque continuare ad aiutarvi per un periodo, perché voi ancora avete dentro la credenza di non poter spiccare il volo da soli, di non potervi creare una situazione che vi faccia star bene economicamente. Una situazione premiante di abbondanza, di... Ok, come la regina di denari. Una situazione nella quale voi siete perfettamente in controllo riguardo a quella che è la vostra vita, la vostra capacità di sopravvivere, la vostra indipendenza, no? Quindi proprio si tratta di qualcosa di economico. La coppia vedo che non era una coppia divina, quindi se dovete lasciare andare questa coppia non vi preoccupate e deve arrivare qualcosa di meglio, semplicemente. Qui abbiamo un aiuto dal punto di vista economico da parte dell'universo che arriverà verso di voi, quindi se avete paura di non... Insomma, se vi sentite come buttati nel vuoto, non vi preoccupate perché l'universo sta pensando a voi e vi manderà qualcosa che vi farà credere di più innanzitutto nei poteri dell'universo e poi vi farà anche capire che non siete soli. Anche dal punto di vista proprio economico, non siete soli, c'è un'energia di abbondanza che vi vuole dare qualcosa, ok? Quindi poi abbiamo questa carta che ci dice non vi preoccupate perché in realtà non ci sarà da entrare in conflitto con nessuno per ottenere questa abbondanza. Se avete una falsa credenza nell'inconscio che vi dice che come dire, per ottenere... per avere qualcosa bisogna toglierlo agli altri, sapete che non è così. Sapete che l'universo ha abbondanza per tutti, c'è abbondanza per tutti sempre e basta chiederla e questa cosa arriva se sapete manifestare con la legge dell'attrazione. Questa cosa arriva. Quindi non pensiate... non sentitevi in colpa, ecco. Non pensiate che purtroppo possa essere diversa la cosa. No, assolutamente. Cioè voi vi meritate di avere dell'aiuso dell'universo, vi meritate di avere la vostra abbondanza economica, la vostra indipendenza economica. vi meritate di essere felici, vi meritate di stare bene. Riguardante a quella persona vi dico una cosa prima riguardo a voi. Guardate, è uscito anche questa carta, la prendiamo. Allora, dicevo, riguardo a voi, voi siete nell'energia dell'imperatrice però ancora c'è una resistenza come vi dicevo prima. Ancora c'è una una non credenza nella vostra testa che voi possiate essere in questa energia. Vi ripeto, è proprio la vostra testa, i vostri pensieri che vi dicono no, non puoi avere tutta quell'abbondanza, non te la meriti e anche se magari non ve ne rendete conto nell'inconscio purtroppo potrebbero esserci dei programmi che lavorano in questo modo. Quindi attenzione a questa cosa, attenzione a questa cosa perché dovete girare questa carta o questa energia e renderla possibile. Voi potete e siete, avete il potenziale per essere nell'energia dell'imperatrice e di avere il controllo sulla vostra vita a 360 gradi. Cercate di entrarne nell'ottica perché se cambiate la vostra frequenza cambierà di conseguenza anche tutto il mondo esterno. Riguardo questa persona abbiamo l'indicazione in questo mazzo, vi dico la verità, non è una persona che vi poteva aiutare o vi può aiutare a creare qualcosa di positivo per voi onestamente se si tratta di lavoro se si tratta di partner se si tratta di amicizia o famiglia in ogni caso questa non è una persona che vi può aiutare a fare la scalata dei vostri successi vedete non è una persona sulla quale potete in realtà confidare o contare purtroppo perché è una persona che pensa in gran parte a se stesso se stessa diciamo che se voi offrite mettiamo il caso vi mettete in società con questa persona dal punto di vista lavorativo oppure vi mettete in una condizione magari non so vi sposate vivete insieme se già magari era così questa persona in queste condizioni di collaborazione è come se non prendesse in conto quello che voi date non lo apprezza non lo apprezza e vuole fare il suo interesse ok quindi attenzione a questa cosa abbiamo una persona che potrebbe talvolta essere anche un po' manipolatoria poi vedete voi se vi risuona e che vi porta spesso a decidere a scegliere tra voi stessi e lei o lui quindi attenzione a questa cosa è un po' un atteggiamento così non tanto carino vedendo queste due carte insieme ok andiamo a vedere con gli oracoli se abbiamo delle ulteriori informazioni per voi ok un oracolo per la variante numero due vediamo tre oracoli vediamo un po' che dicono sì assertivo guarigione e grandi e felici cambiamenti allora questo va proprio a confermare quello che vi dicevo credo che dobbiate essere più assertivi nella vostra vita in generale magari bisogna proprio andare a lavorare sull'assertività ma in linea di massima quello che vi dicono è cercate di essere assertivi anche per quanto riguarda questa persona perché magari questo atteggiamento assertivo può aiutarvi anche nel distacco anche oppure se volete staccarvi oppure se volete continuare ad avere a che fare con questa persona semplicemente vi può essere utile nel come dire interagire con questa persona in modo che questa persona faccia i suoi interessi come è normale che faccia lo sapete ormai però comunque che anche i vostri bisogni abbiano come dire un senso di esistere un'importanza se non ci dà importanza a questa persona qui ai vostri bisogni datecela voi ok e poi siate assertivi e comunicate a questa persona che voi date importanza ai vostri obiettivi scusatemi ai vostri bisogni se per esempio non vengono rispettate determinate vostre esigenze cerchete di prima di tutto validarle voi queste esigenze dopodiché con l'assertività dite a questa persona senza aggressività semplicemente comunicate a questa persona che voi avete queste esigenze e che da lì non vi smuovete ok questa persona anche se ha tutti gli atteggiamenti tossici di questo mondo non lo sappiamo ma avrà assolutamente sarà obbligata no a a fare quello che voi dite perché voi avete semplicemente esposto quello che è il vostro bisogno e da lì non si scappa poi abbiamo questa carta che ci dice di guarire quindi mi raccomando tra l'altro mentre stavo dicendo guarigioni ho tirato su questa carta sotto c'era il diavolo al contrario quindi credo che voi abbiate un po' di pensieri ossessivi riguardanti questa persona questa situazione non siete proprio bene mentalmente non siete nel vostro potere avete veramente dell'ossessività che vi sta attanagliando in questo momento quindi cercate di prendervi cura di voi del tempo per voi cercate di lavorare sul vostro benessere psichico e vabbè ovviamente anche fisico però parte tutto dal benessere psichico quindi se siete stressati non fatevi non lasciatevi stressare ancora di più cercate invece di essere più morbidi nei vostri confronti e se avete bisogno di tempo prendetevi del tempo per voi questo vi porterà a grandi e felici cambiamenti alcuni andranno proprio verso una nuova situazione altri invece magari resteranno nella situazione in cui sono però avendo fatto questo cambiamento quindi ritagliandosi il proprio spazio mettendo l'altro davanti alle proprie esigenze mostrando all'altro che può arrivare fino a lì ma più di così non può entrare invadere il vostro spazio e credetemi questa è la chiave di tutto allora ci saranno grandi e felici cambiamenti nella vostra relazione nel vostro rapporto comunque nella situazione verrete rispettati inizierete a venire rispettati da questa persona il che è molto importante ok spero di essere stata utile se vi va nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate se vi ha risuonato cosa state vivendo soprattutto chi è questa persona e cosa state provando ad avere a che fare con questa persona io vi saluto vi abbraccio e noi ci vediamo sempre domani alle 20 con un nuovo video buona serata